Le indagini proseguono ed ora saranno integrate da nuovi elementi inseriti nel dossier informativo a supporto degli esposti presentati. A comunicarlo Ettore Aschedamini, abitante a Pianengo, autore di un esposto ai Carabinieri Forestali di Crema e alle Prefetture di Cremone e Bergamo, sulla criticità ambientale in cui versa l'area dell'ex Cavalberti, dove negli anni 70 furono interrati rifiuti solidi urbani altamente inquinanti. Aschedamini ha raccolto un dossier a supporto della sua tesi, ovvero rischio ambientale della zona che andrebbe bonificata, dopo che il Parco del Serio ha espresso la volontà di acquistare una parte dell'area dell'ex Cavalberti per farne un parco pubblico e un'oasi naturalistica. Gli esposti con la denuncia del rischio idrogeologico e ambientale per la presenza di una discarica interrata sono arrivati fino a Copenaghen all'Agenzia Europea dell'Ambiente, interessata alla zona del cremasco in quanto ha già effettuato un monitoraggio satellitare su 38 discariche interrate e 4 depuratori presenti lungo il fiume Serio. Aschedamini ha integrato le informazioni raccolte con nuovi elementi, è venuto in possesso di immagini relative al monitoraggio satellitare dei droni dell'area dell'ex Cavalberti, della discarica di Pianengo e di quella di Serniano. Sembrerebbero emergere dalle immagini livelli di inquinamento elevati nell'acqua presente nell'area dell'ex Cavalberti. Le immagini e la nuova documentazione, in aggiunta a quella già presentata, saranno spedite in settimana alla Procura e Prefettura di Cremona, all'Aipo, a Regione Lombardia e all'Agenzia dell'Ambiente Europea. Una copia del dossier stampata è già stata consegnata a mano all'attuale Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli.